Ragazzi, incredibile, si dice che l'università crolla, qua nel vero senso della parola, a Cagliari è crollata all'università poco dopo le lezioni, un miracolo che non è morto nessuno, guardate, guardate cosa è successo all'università di Cagliari, ragazzi, di lingue, pensate se c'era qualcuno in quell'aura, cosa staremmo a dire adesso? E invece proprio crolla l'università, letteralmente ragazzi, non è un modo di dire, l'università è crollata su se stessa implosa, altro che dove vanno a finire i nostri soldi, spendono la metà per i materiali, cercano di fare soltanto soldi per loro, niente sicurezza, materiali scadenti, il peggio del peggio, non basta che si rubano con le tangenti un casino di soldi, poi mettono pure materiale scadente, speriamo che questa inchiesta faccia il suo seguito, ma dubito fortemente.